Pomeriggio 5, Barbara D'Urso replica la rap di Romina Power Pomeriggio 5, la risposta di Barbara D'Urso alle esibizioni di Romina Power Una vera e propria battaglia televisiva si è consumata il fine settimana appena passato tutto interna a Canale 5. Infatti sabato sera Maria De Filippi ha invitato alla settima puntata del serale di Amici Albano il quale ha duettato con la concorrente della squadra bianca Emma. In occasione del suo compleanno, la signora Costanzo ha deciso di preparargli una sorpresa, una gigantesca torta e la presenza di Romina Power e della loro figlia Romina Ilunga R. La coppia inoltre si è cimentata in una versione alternativa di Felicità dove è stato inserito un pezzo rapintonato proprio dall'artista americana in cui attacca i conduttori che si vendono per denaro e ascolti alti. Discolpatasi immediatamente la De Filippi, la Power rivendica che il messaggio non era rivolto alla bionda presentatrice. Il dubbio che quelle parole fossero rivolte a un'altra collega della stessa rete di Maria alias Barbara D'Urso si è fatto più forte che perché ieri. A domenica live, Carmelita ha invitato Loredana Leciso a commentare le ultime dichiarazioni della cerrima rivale Romina. Proprio oggi a pomeriggio 5, l'irremovibile Patrizia Groppelli ha ricordato a Barbara quanto accaduto e denunciato sabato sera dalla Power. La D'Urso non ha fatto attendere la propria risposta. Pomeriggio 5, Barbara D'Urso si difende dal testo di Romina Power. Barbara D'Urso ha risposto oggi a pomeriggio 5 a chi abbia pensato che le parole intonate da Romina Power sabato sera ad amici fossero rivolte a lei. La presentatrice del Grande Fratello 15 e Domenica Live ha infatti così risposto. Allora ho seguito sabato sera la trasmissione della mia amica Maria De Filippi però io non ho pensato minimamente che fosse diretto a me Dollaro. Ed ha puntualizzato. Anche perché io dico sempre che le cose cattive vengono viste cattive da chi possiede gli occhi cattivi. Io, avendo gli occhi buoni, vedo sempre tutto buono e positivo. Perché Romina avrebbe dovuto fare questa cosa contro di me? Sinceramente non capisco. Sarà stata Sarkacon con accento acuta stica carmelita nella risposta alla sua opinionista. D'altronde la stessa conduttrice di Pomeriggio 5, ieri a Domenica Live rispondendo a Loredana Lecciso su unipotetica ospitata insieme a Romina Power. Ha asserito che ha tentato più volte di accoglierla in studio ma che la donna ha sempre rifiutato. Infine ha persino voluto chiarire che con la presenza o meno dell'artista americana, il programma festivo di Canale 5 raggiunge ugualmente il 22 share. Insomma la stessa affermazione che rivolse ai fratelli Rodriguez e più recentemente a Nino Formicola.